qui web music in uno di uno sarah marco mi mettono un po' parlare lui è un po' sfigato però lui è sfigato perchè non parla la mappa è handwake dai parli parli adesso si però adesso c'è eco non è stato trovato perchè prima non parlavi ti ho detto avevo delle cuffie con cui sentivo meglio ma dopo non posso dopo non posso ti puoi dire o spono ti puoi dire o spono no bene che va l'eco che va l'eco ah comunque questo qua è il vero v1 0 pp1 bene con l'ho fachauci vedete ah Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehm... Diciamo... Ehm... ... Bello... ... 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 Siamo a 5 secondi... Lo stagio non è stato trovato... ... Lo stagio non è stato trovato... ... ... ... ... ... Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sono... Nell'ultimo piano... Certo in alto... Un' armeria? Un' armeria? Un' armeria? Un' armeria? Un' armeria? Sì... Ciao... Ciao... La squadra d'attacco ha un contatto evitivo con lo stagio... Devo... Rose... Roude... Level... Eroca, easy Massimo modalità d'attacco... Männer... Reci... Guarda... ...è un GO! Qu法d. Qu法d. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.